Gli agenti hanno finto di essere possibili acquirenti e negoziato l'acquisto con i ricettatori per 7 milioni di dollari, uno in meno della richiesta iniziale. È così che la polizia turca ha recuperato ad Istanbul la tela di Picasso Woman Dressing Her Hair, dipinta nel 1940 ed ispirata a Dora Mar. Era stata rubata una collezionista di New York.